Cos'è stato? Cos'era quel rumore? C'è qualcuno? C'è qualcuno? No, adesso non riesco più a dormire. Devo andare a vedere, forse c'è un mostro. Ho un po' di paura però. C'è qualcuno? Ancora? Forse, forse è papà che è rossa. Forse... Adesso vado a vedere. No, non è papà. Ancora? Anna, Anna, svegliati. La sveglio, sì. C'è un mostro. Anna, Anna, svegliati. Anna! Anna! Anna, ti prego, svegliati. C'è un mostro. Ho paura. Anna! 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 Emma, cosa fai? Mi svegli nel cuore della notte. C'è un mostro. Anna, vieni. Ho paura. C'è un mostro? Ma non c'è nessun mostro. Sì, lo senti questo rumore. Eccolo. Ma forse è papà che è rossa. No, ho già controllato, Anna. Va bene. Guardiamo se è Julian, allora. Dai, forza, vediamo. Julian non è... Anna, Anna, ho ancora paura. Guardiamo dappertutto. Va bene. Adesso guardiamo, va bene? Tranquillizzati. Vedi? Non c'è nessun mostro. Sì, ma c'è. Hai sentito? Hai visto? Abbiamo controllato nell'armadio, sotto il letto. Non c'è niente, Emma. Ora torna a dormire. Forza. Sì, non lo sento più da un po'. Forse è andato via. Sì, vedi, anche da te è tutto normale. Sì, ma guardiamo anche in bagno. Va bene, guardiamo anche in bagno. Visto? Non c'è nessun mostro. Sì, ma forse si nasconde nel water. Va bene, guardiamo anche il water, Emma. Dobbiamo guardare tutta la casa. Visto? Non c'è nulla. Però forse il water va pulito. Ora torna a letto, Emma. Sì, forse se n'è andato. Hai ragione. Brava bambina. Forza. Su, su, su. Vai a letto. No, è tornato. Ecco. No, no, no. No, io non ci vado a letto. No, no, no. Dobbiamo guardare tutta la casa. Va bene, Emma. Stai tranquilla. Adesso andiamo insieme giù. Sì, io sto qui dietro a te. Ho un po' di paura. Anzi, ho tanta, tanta paura. Sì, stai tranquilla. Tu stai dietro di me. E vediamo. Ah, qua il rumore si fa più intenso, però. Sì, hai sentito. Dobbiamo chiamare la polizia. Dobbiamo chiamare i pompieri. Tutti devono venire, aiutarci. E poi svegliamo papà, che butta fuori il mostro. Tutti. Vediamo un po'. Emma, hai visto qual è il mostro? È Samira. Samira, miagola durante il sonno. Allora sei tu, piccola Samira, per fortuna. Certo. E ora forza a letto. Bisogna dormire. Ok.